Cioè io sono qua che sto provando a provare 5M, 7RP e tutto Mamma non so, non sei nel TeamSpeak Però non funziona, devo riabbiare il gioco Riabbiò il gioco e mi ritrovo Pietro Smusi davanti, pelato Perché mi crea il personaggio senza che io abbia neanche provato a modificarlo Perché c'è una schermata davanti con scritto scarica TS, quella merda lì Ora c'è una schermata davanti generale camminata che non so come togliere Perché io non so niente, la prima volta che apro il gioco non mi è stato spiegato nulla Come posso far, perché non è flosso a terra se premo la freccia su? Posso ricreare il personaggio? Dove è l'assistenza? C'è sta assistenza di merda, qual è il comando? Faccio una schermata di merda davanti con scritto generale camminata Perché c'ho delle pantofole? Ma chi è questa? Perché sto picchiando una tizia a caso? Durante l'atterraggio Posso fare richiesto web sul Discord oppure andare a un negozietto di vestiti e cambiare i vestiti E anche... Cos'è successo? Ma cos'è successo? Chi sta parlando? È un admin? C'avevo tutto in macchina, ce l'avevo Mi hai sentito? No perché in pratica io stavo provando questo server la prima volta che apro 5M Sono entrato in questo server perché mi erano consigliato dei miei amici Solo che non avevo, non ero entrato su TeamSpeak Quindi ho dovuto riavviare il gioco Riavviando il gioco non sono riuscito a creare il personaggio Puoi fare la richiesta wipe sul Discord E devi aspettare che ti verrà accettato Certo con primo Devi aspettare che ti verrà accettato la richiesta Se no puoi andare a un negozietto di vestiti Ti costa 500 dollari e ti le porti in contanti E ti cambia tutti i vestiti E vai anche dal barbiere Ti dovrei prestare 250 dollari per 300 E ti puoi prendere pure carba E... Va bene, ok, grazie Devo andare al barbiere e pagare 500 dollari per modificare barbe e capelli E andare alle cose di vestiti per un completiere Ma vai a cagare, ma in game devo farlo Oppure entra nel Discord, fai una richiesta wipe ai nostri admin E aspetta che ti venga a reselezionare Ma cosa vuol dire? Io ora, a parte il fatto che sono petrosmusi Va bene, ci posso convivere, non è un problema Non posso convivere con la schermata di merda davanti Ma Fra, ma il suo server è fatto col culo Mi, mi ti fidi di me, Flisi È Luca che non vuole entrare in forza Io voglio, io voglio solo giocare Oh, perché mi hai risposto? Eh, no, non mi ho risposto, eh Molto meglio Spacco il culo a tutti No, 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 che tiro di panna, no Perché mi... Non capisco mai Ho avuto un'altra schermata Cosa devo fare? Non vedo un cazzo Come esco dal server? F8 quit Cioè, uno vuole cambiare server e deve riavviare il gioco? Non potevano fare un... Esci dal server Quindi devo fare quit? No, devo riscaricare Non dimmi di no Di cosa? 278? Eh? K, ascolta l'azzo Sì, ma sono 50 mega, Flisi K, ascolta Sai che la polizia... Non ti posso dire niente Non penso che sia il server, dai Ehm, perché c'è una... Perché c'è un'altra musica cringe? Oh, grazie, grazie al cielo Sì, sì, lo so Ma il fatto è che uno che non lo conosce... No, eh... Ok Io mi chiamo Rob Duro Sono alto 10 metri? Sono alto 10 metri? Non me lo fa creare 10 metri di altezza No, io Pietro Smoothie di nuovo Non ho, eh Ora Bene Ora, fatti la roba Ma scusa, posso cosa? No No No, 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 no No, come faccio? No Sono coglione Ma cosa? Non ho toccato niente Ho premuto ESC Non ho tenuto un conferma Voi confermare la questione del tuo personaggio? No, è uscito da solo No, esci dalla porta Non ho creato il personaggio Non importa Vai al negozio di vestiti e ti cambi i vestiti Ma io voglio cambiare il personaggio Eh, ormai non puoi più farla, però Sticcate Uno premi ESC E niente Fottuto per sempre Inculato Ma perché? Ascolta Perché devi sempre toccare? Ma non esce nemmeno un Un Sei sicuro Di voler terminare la questione del personaggio? Sì, no, no Te lo finisce così Oh, ma sto WiiWi te lo fico in te No, io non ci riesco Ma posso capire perché uno premi ESC E finisce la Io non ce la faccio Uno si sbaglia Non c'è nemmeno la conferma Era già la conferma Quella che tu hai tolto Era già la conferma Qual era la conferma che ho tolto? Quella che hai tolto te Quella che hai tolto te Era già la conferma E' sicuro di volerla Eh, ma hai fatto un po' male Però c'è da dire No, è giusto perché No, è giusto perché Ma vaffanculo Ma ci rendi altri Non c'è nemmeno una conferma E tu consideri Il plugin giusto Ma puttana Io ti distruggo Ormai esci Tanto la faccio Chi è questo qui? Ma poi sei lo stesso punto Sei Ma chi è? Io non voglio essere di là Siamo più il pelato Premier, premier, premier Ok Non è, non è prima Ma sto twitter mi sarà un pendicoglioni comunque Whee, whee, whee Whee, whee Whee, whee F1 Schiaccio F1 Non hai un telefono Ma se non ho un telefono perché mi arriva twitter? Scusa, eh Non ho il telefono ma mi arriva twitter Io ho twitter piantato nel cervello Io sto tirando in bicicletta Devo dire che è molto interessante Perchè mi sto crattando la spalla? Perchè sono diventato Cervole Eeeh Cos'è successo? Sono diventato Sono diventato Un imbecille No, vabbè Io ho Ma questo Cazzo Ma lo state vedendo? Si 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 A me Mi pizzica un po' il culo Non è proprio il mio problema Eeeh La spalla No ma sembra un no veramente Ma cosa sto guardando? Tu quando riservi Esatto Dopo Cosa mi Cos'è? Ma io no io Dei problemi Ma alle ossa Sono disoccupato Sono disoccupato Pelato che va in giro in bici di notte Cioè ho sempre sognato Di interpretare un disoccupato Pelato che va in giro di notte in bici Con dei problemi al polso Ma come lo impugna quel manubrio? A me non fatti i capelli Ma cos'è? Perché c'è con Mixans in alta sinistra? Perché si è bloccato il gioco? Ascolta Perché si è lagato Disconnected by server? No perché? Ma voi mi vedete? Come faccio a toglierlo? Io gli ho chiesto Voi mi vedete? E Google ha risposto Non ho una videocamera E come sono collegate le cose? Ma non mi carica nulla Io sono fermo qua Fai F8 Fai F8 No non voglio riavviare il gioco eh Non è che adesso si blocca Riavvio il gioco con quit No no eh Premi F8 Parola bandita su sto server Ve lo dico Perché ha il tabato? Non ho al tabato Fai F8 bro Perché stai cliccando Cosa a casa non sai cosa stai facendo Vabbè Allora facciamo così Dato che oggi sei un po' nervoso Ma cosa un po' nervoso? Ti sembra un po' nervoso? Si molto nervoso E in base a cosa lo dici? In base a fatto che ogni 10 secondi c'è un problema Qualcosa che non capisco E' colpa tua Colpa mia E' il fatto che prima di entrare dovevi sapere delle nozioni base Devo saperlo prima Devo sapere che devo sapere E in base a cosa devo sapere che devo saperlo In base a cosa devo sapere che devo sapere di saperlo Che più sei riuscito a confondermi Un bordello anche a me Perché non mi connette Mi dice connesso No E non voglio riavviare di nuovo Invece di aiutarmi loro ridono Hai capito? Cioè io ho delle persone Intenta ad aiutarmi Ad aiutarmi proprio nel caso di problemi Quit Premia F8 Riavvia il gioco Mi ha caricato Incredibile Wow Pietro Smusi Ma che cazzo? C'è Pietro Smusi che corre Ma che cazzo è? Ma mi sembra di quelle Corse autistiche no? Una corsa autistica No vabbè ma io devo dire Corro in giro così Una mano nella spalla E l'altra mano immobile Appassionati di fai verme E io sono così Oddio Mi è voto fuori la casa del personaggio a caso E personaggio Mi chiamo Rob Duro E' arrivato uno che mi ha detto Bel personaggio Oh che cazzo vuoi Mica l'ho scelto io E io gli ho scritto Sono Rob Duro Sono duro Mi sa che l'altro in quello Nooo Ma è un bambino l'admin Un undicenne No ma mi arriva Mi hanno tornato fuori la schermata del personaggio Ma guarda come corre Cosa vuol dire? Perché c'è un autobus? Cos'è? 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 E non puoi Perché non posso? La paralisi gli arriva Perchè? Perchè? Perchè ne arriva la lictus? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Sono anche mutato l'audio Ma se tipo andassimo in... Sono sopra il cestino Ragazzi chiamatemi Ma perchè? Virus Nooo No Devo farmi la doccia stasera Fai capriolo Ho bisogno di farmi un bagno Puzzo un po' Vai No ma cos'è? Ma sono una persona autistica Cos'è? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? No va bene ok Io interpreto uno scappato dal manicomio La mia vita è una merda Sta pure... ha iniziato a piovere Nessuno mi capisce heee much more Cosaota Spec standard Percorso Percorso Oh Un mimo di quelli veramente Assurdi Linners world record rrrrrr Ok Percorso 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 L'avete visto? No dai non è possibile Ma quanto è bella sta scena No vabbè è finita Guarda come Guido Oh Guido ha preso la macchina si Cosa? Ma che cazzo? Cosa? Non è un telefono Cosa sta facendo? E lei Sceriffo E il toro Mi toghi chi ha un po' Non è il suo mazzo E lui